Ciao a tutti e benvenuti su Fallout 3 The Best Oggi siamo qui per farvi vedere un video di Fallout New Vegas e vi spiegheremo come trovare un'arma cioè un'arma veramente speciale per chi come me è un amante per chi come me gli piace fare il cecchino in Fallout New Vegas Allora, quest'arma si chiama il fucile Gobi ovvero non è altro che un fucile a cecchino potenziato e lo si può trovare al nido del cecchino al nido del cecchino è precisamente a ovest di Cottonwood Court oppure a sud-est della miniera d'oro settembre in area di Searchlight Allora, dovrete salire su questa montagna alta se passate da Cottonwood Court e poi pian piano scendere di qua e eccoci arrivati qua così qua è il nido del cecchino Per prima cosa dovremmo scassinare questa cassa che è una cassa vi servirà l'abilità scassa a 100 ed ecco qua il vostro fucile Scout Campagna Gobi lo facciamo subito vedere e color sabbia infatti si spiera molto al deserto del Gobi che sicuramente veniva usato durante la campagna nel deserto del Gobi ha uno zoom fantastico solo che è un po' più debole del fucile a cecchino però fare i colpi più velocemente è un'arma veramente bella perché gli piace fare il cecchino in Fallout spero che questo video vi sia piaciuto ciao a tutti da Fallout 3 The Best grazie a tutti grazie a tutti